5, 4, 3, 2, 1, via, destra 3 continua per cento, sinistra 6 possibile salto 100, destra 6 su appossa 2080, attenzione sinistra 5 salto 60, sinistra 3 in media 60, sinistra 4 continua dopo il pivio si apre, in sinistra 5, destra 4 si restringe di venta 3 poi subito curva comito a destra non tagliare, 60, destra 5 media, in sinistra 6 media, 60, finale poi curva comito a sinistra in ritardo non tagliare 80, destra 6 su appossamento crinale, in destra 5 lunga, in sinistra 1 lunga, poi curva destra 4 si restringe, e in destra 5 media 80, destra 2 si restringe di venta 1, 60, destra 6 su crinale, sinistra 4 lunga, in sinistra 2 si apre il 60, sinistra 5 lunga su crinale, destra 6, sinistra 6 continua curva su salto, attenzione sinistra 6 salto stai a centro, sinistra 6, in destra 5 non tagliare 60, curva destra 2, in sinistra 2 si apre lunga, e sinistra 6, e destra 6 poi sinistra 6, in attenzione destra 5 si restringe, non tagliare dopo il pivio, in curva comito a sinistra su pozza d'acqua, curva destra 3, poi sinistra 2 si restringe, in sinistra 6, destra 3 media su a fossa vento, in sinistra 3 lunga, curva destra 5, 60, destra 5 lunga, poi destra 5 lunga, tornante destro 60, tornante sinistro, in destra 5 lunga, in destra 5, 40, dopo il pivio insidioso, sinistra 3, destra 4 non tagliare, sinistra 3 lunga, non tagliare 60, sinistra 4 lunga su crinale, stai all'interno, in destra 6, 60, attenzione tornante e destra 100, sinistra 6, destra 6 su conetta 60, caudella destra 5 lunga, poi tornante sinistro, in sinistra 6, media 150 su conetta a fossa vento, sinistra 6 e destra 6 su conetta 60, attenzione sinistra 6, media crinale, stai all'interno, poi sinistra 6, in curva stretta, destra 40, sinistra 6, 80, destra 5, 80, discesa conetta a fossa vento, sinistra 6 su crinale, 60, discesa, attenzione destra 5, 60, discesa, destra 5 non tagliare, poi attenzione sinistra 4, media, in curva sinistra 3 lunga, in destra 5 non tagliare 60, destra 6 lunga su crinale, sinistra 6, 60, sinistra 6, 60, destra 6, 60, sinistra 6 crinale, in destra 3 lunga, attenzione sinistra 5 non tagliare, destra 4 stai all'interno, 60 su crinale, sinistra 4 continua per 90, attenzione destra 6, in subito tornante sinistro, salita, destra 4 e tornante destro, in sinistra 6, crinale punetta, destra 6 su apposta 20, 60, tornante sinistro intorno all'alme, 100, salita, tornante destro, destra 6, crinale 80, sinistra 6 media, e attenzione destra 6, tornante sinistro 80 su crinale, e il crinale possibile salto, destra 6, 60, tornante destro 150, piccolo crinale sinistra 6 lunga crinale, e attenzione curva destra 3 si restringe, salto 60 discesa, si restringe, sinistra 4 lunga si apre e si restringe, salto, in destra 4 lunga si restringe, diventa 3 non tagliare, in sinistra 6, 60 salto, sinistra 5 lunga, 60, sinistra 6, e destra 4 lunga non tagliare salita, sinistra 6 piccolo salto, destra 6 e sinistra 6, 100 salita, intornante sinistro, destra 5 lunga, caudella sinistra 6, crinale stai al centro, 100, crinale 80, sinistra 600, attenzione destra 2, media, intornante sinistro, in destra 6, 80 su crinale, attenzione 1 caure sa quarto lunga, stai al centro, intornante, intornante, antirur, cont hostel Sheridan